Franco De Michele oggi a Casal di Principe per incontrare iscritti e simpatizzanti e militanti del Partito Democratico. Il suo slogan è sviluppo legale. Qui da qualche anno è iniziato un percorso serio di cambio di rotta rispetto al passato. Ma lei perché ha scelto questo slogan? Perché è un valore che non è solamente etico, morale o terzo, ha un senso di pratico. Noi pensiamo che la legalità convenga al territorio perché al territorio con la legalità rimangono le risorse, gli investimenti, l'occupazione. Quindi non è uno slogan banalmente moralista ma ha un senso di concretezza che non a caso abbiamo scelto quest'hashtag che si chiama sviluppo legale. Casal di Principe è anche l'epicentro della terra dei fuochi. Il governo Caldoro ha gravi responsabilità sotto il punto di vista ambientale, mancate bonifiche. Lei se dovesse essere eletto cosa proverà a fare per invertire questa tendenza? Bisogna innanzitutto mettere mano a quello che io chiamo più che bonifiche messe in sicurezza dei territori. Le risorse in parte sono state stanziate, non bastano. Bisogna fare di più e questo è un primo impegno di chi andrà in Consiglio regionale. Io mi auguro tra questi in rappresentanza della nostra terra e della nostra provincia. Poi bisogna chiaramente continuare a non abbassare la guardia perché il tema è ampissimo, c'è ancora molto da capire e da fare. Ovviamente però anche qui bisogna stare molto attenti perché non bisogna assolutamente pensare che il problema sia stato in qualche modo risolto, anzi bisogna continuare a combattere perché questi fenomeni non accadano più.